Finalmente WL. La seconda giornata posticipata al mercoledì sera riconcilia la Carpegna Prosciutto Basket col pubblico di Pesaro che torna alla Vitrifrigo Arena dove mancava da inizio 2020. Tantissimo tempo, troppo per rimandare ancora la gioia della vittoria. E così è stato, convincente successo 74-61 con un incontenibile Tyrick Jones a trascinare con 24 punti la sostanza di Sanford e l'esperienza di Delfino a condire il tutto per i primi due punti in campionato dell'era Petrovic. Questo è un lungo percorso che noi abbiamo fatto con tanti problemi. Adesso abbiamo vinto la partita dopo 35 giorni che non abbiamo vinto. Siamo stati consapevoli dei problemi che abbiamo fatto. Penso che siamo andati in una direzione giusta. Già abbiamo giocato una grande partita 10 giorni fa in Sassari dove per poche cose non abbiamo vinto. Però in quella partita non vinta ha aumentato un po' la pressione su questa partita di oggi. Ieri sera abbiamo rincontrato un problema con Matteo che è stato nostro, senza nessun tipo di dubbio, miglior giocatore di 40 giorni, miglior giocatore senza nessun dubbio. In momenti chiavi siamo consapevoli che ancora abbiamo problemi, siamo lavori in corso, strada facendo, però siamo riusciti a giocare con una grande energia in difesa. Abbiamo giocato con cuore in difesa, però questo è il problema che anche con tanto cuore abbiamo giocato in attacchi e abbiamo fatto alcune scelte sbagliate. Penso che in attacco bisogna giocare più con la testa, usare cronometro quando sei già 6-7 minuti a fine. Gioia per il pubblico tornato all'arena che ora Petrovic punta a far lievitare nei numeri di affluenza sull'onda di altre prestazioni da mettere in fila alla prima vittoria con dedica al super tifoso Marco Piccoli ricoverato in ospedale. Io personalmente dedico questa vittoria a Marco Piccoli, un tifoso che anche i miei tempi è stato in vecchio palazzetto e auguro che si recupera in modo favorevole, però penso che giocando così, giocando con cuore, con l'intensità, penso che già contro Tortona possiamo arrivare a più di 3.000.